Cosa vi racconto questo lunedì? Siamo in un momento storico particolare, siamo in emergenza sanitaria, siamo in emergenza economica, ma non ci siamo solo noi in Italia e tutto il mondo ha questo problema. È un problema globale, globale come il cambiamento climatico. E allora cosa mi viene di pensare? Che alla fine noi abbiamo un'unica crisi che è quella dei valori, è una crisi di valori e vi spiego perché. Parliamo della settimana in Parlamento, che cosa è successo? Parliamo del recovery fund, questo fondo sì, questi soldi che arriveranno. Il punto non è tanto il denaro in sé, dici ok è importante anche quello. Ma che progetti verranno portati avanti e soprattutto quali saranno gli obiettivi dei progetti? Gli obiettivi devono essere assolutamente i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030. E per questo io sono veramente d'accordo su quello che ho sentito e ho visto adesso con i comunicati stampa, su questa cabina di regia che sarà effettuata alla presidenza del Consiglio, che vedrà ovviamente che cosa? Vedrà in sinergia sia i ministri, sia chiaramente una serie di individui che avranno delle competenze in ogni settore, si parla di 300 tecnici, e sarà coinvolto anche il Parlamento. Questa è la soluzione migliore, perché qui non bisogna tirar fuori, ve lo dico proprio molto chiaramente, i progettini dei cassetti, ok? Ma bisogna fare qualche cosa insieme. Questo è l'approccio sistemico e quindi è la cosa più giusta. Poi in Parlamento di che cos'altro si è parlato? Abbiamo il Ristori, questa notte c'è stato anche il Quater e porterà 500 milioni per tutelare anche il Made in Italy, questo è un comunicato stampa anche del nostro Luigi Di Maio, ed 8 miliardi a sostegno dei cittadini e delle imprese, con dei bonus e con il rinvio delle tasse. Si sta facendo il possibile, guardate, perché si sta cercando veramente a pioggia di aiutare tutte le categorie. Io stesso ho inserito altri indici a Teco, alcuni che mi sono stati suggeriti anche proprio da alcune parti di una filiera che finora non era stata considerata. Per questo noi parlamentari diciamo siamo i portavoce, siamo i portavoci del territorio, dobbiamo fare questo, ascoltiamo dove c'è il problema e lo portiamo quindi in Parlamento, in Senato, al Governo. Un'altra cosa che è successa è questa piccola diciamo bomba scoppiata sulla Rai, questa bufera sul tutorial della spesa in modo sexy. Io guardate sono di ampissime vedute, il problema non è la minigonna e il tacco perché lo metto anch'io, cioè il punto non è quello. Il punto è che se io esprimo in una in una appunto in una tv pubblica un mio giudizio e esprimo un'idea di donna, io vorrei che quella donna si girasse e mi parlasse anche in modo competente di quello che sta facendo o mi parla di come fare la spesa, mi può dire come magari scegliere un prodotto ecosostenibile invece di un prodotto non ecosostenibile. Io dovrei dare l'esempio alla futura generazione che le donne possono essere utili nel domani con la loro intelligenza, le loro capacità di studio, di applicazione e anche di innovazione. Questo viene riportato in alcuni studi a livello internazionale, che le donne sono più capaci ad innovare. Io voglio che passi questo messaggio. Io concludo con un mio parere personale sui parlamentari. Allora il taglio dei parlamentari è qualcosa che ho condiviso perché ci siamo uniformati ai numeri europei e abbiamo quindi diminuito il numero dei parlamentari. Quindi abbiamo agito sulla quantità. Adesso io vi lascio con una domanda. Mi dite come facciamo ad agire anche sulla qualità dei parlamentari? Alla prossima!